A Chiaiano 126 famiglie attendono un alloggio promesso e mai consegnato. A Scampi e Secondigliano gli abitanti delle vele vengono sfrattati o attendono lo sfratto a giorni. Sulle impalcature di Via Verdi i Disperados e i Cub presidiano il Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli in attesa di risposte ma soprattutto di 40 mensilità arretrate. E questo è il quadro sempre più tragico che caratterizza questo inizio di novembre partenopeo e rispecchia gli ultimi dati presentati dal Focus Albero della Vita, organizzazione italiana che da 18 anni è impegnata a difendere e promuovere i diritti, il benessere e lo sviluppo dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio e marginità sociale, sanitaria, educativa, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona. I risultati della ricerca evidenziano che la prima causa di disagio a Napoli tra le famiglie intervistate è legata proprio al lavoro, nove famiglie su dieci, in particolare la disoccupazione, sette famiglie su dieci. I problemi a maggiore incidenza negativa invece sono quelli relativi all'abitazione, gravità media del 2,9%, lavoro e salute, problemi di giustizia, familiari e distruzione. Insomma, un quadro desolante che acuisce il disagio sociale e sottolinea l'allarme, più volte espresso anche dal cardinale metropolita di Napoli, Crescenzio Seipe, che alle istituzioni ha invitato ad un impegno maggiore per aiutare chi ne ha bisogno. Grazie. Grazie.